E in verità il mio medico, tanto per dire, era del parere che non vi fosse mancanza alcuna nell'arrivare quando un padre è già morto, ma si capisce che lui doveva darmi una mano per liberarmi dallo spropositato senso di colpa e pertanto si sforzava di persuadermi della mia innocenza, anche quando, come nel caso della mia assenza al momento del paterno trapasso, la colpa sussisteva. E come? Vorrei essere chiaro su questo punto che è un punto capitale della vicenda, in quanto che segna l'inizio del passaggio dalla seconda alla terza fase della lotta col padre, e in altre parole il ritorno alla sua strapotenza, e non è detto che non segni anche l'inizio, benché ancora lontano e recondito, dell'oscura malattia che mi venne nell'anima. Anzi, diciamo senz'altro che è nata da lì questa brutta malattia, dato che la constatazione di una colpa oggettiva, qual era in realtà l'assenza, provocò la scossa previsoriamente inavvertita, che mise in moto tutti gli altri sentimenti di colpa, rimossi e tenuti in deposito nell'inconscio, in attesa di nuocermi. Poco al confronto di quanto mi costava, ad esempio, volare una donna vecchia e prenderne una nuova. Ma molto, se si tiene conto, come giusto, dello scarso bisogno di denaro che aveva mio padre, il quale oltretutto godeva di due pensioni, piccole finché si vuole, ma due, e se poi la somma che gli spedivo era proprio ridicola, come, tanto per dire, dieci o magari anche cinquemila lira, allora per sentirmi in pace con la coscienza, bastava che pensasse a qualcosa che in lui mi dava fastidio. Non so, la sua ostinazione nel firmare quel cognome e nome invece che quel nome e cognome. Oppure l'importanza che si dava quando presenziava le cerimonie patriottiche portando la bandiera della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dato che tutto sommato non è splendido avere un padre carabiniere, sia pure in congedo. Quando dunque la sorella maggiore mi telefonò per dirmi che il padre, il poveretto, non stava molto bene, aveva avuto non so che cosa gli intestini, forse soltanto una costipazione ma con dolori fortissimi, insomma anche per consiglio del medico condotto, l'avevano ricoverato all'ospedale del capoluogo, una camera per pensionanti di prima classe, circa 3000 lire al giorno, riscaldamento compreso, per vedere un po' se gli passava questo spaventoso mal di pancia, che in effetti gli era un po' passato, però al momento si trattava di vedere come mai gli fosse venuto un così brutto mal di pancia. E pertanto, lo diceva anche a nome delle altre sorelle e di nostra madre, non sarebbe stato male se mi fossi fatto vedere anche presto. Insomma, quando la sorella maggiore mi telefonò a queste belle notizie, io piantai tutto, lavoro e pasticci di donne, presi il direttissimo di Venezia e durante il viaggio pensai sempre che il vecchio ormai era spacciato. O meglio, tanto per non sentirmi menagramo, pensavo indirettamente a cosa mai sarebbe cambiato nella mia vita familiare e personale, nel caso triste che gli fosse ormai spacciato, e in sostanza mi pareva che niente sarebbe cambiato, o molto poco in verità, purché per mia madre, disgraziata, la quale sarebbe rimasta vedova col problema delle due pensioni che non era ben chiaro se fossero reversibili. Ossia la più piccola, quella delle previdenze sociale, pareva senz'altro reversibile, ma l'altra ancora no. E in realtà, alle lettere che mio padre ogni settimana o 15 giorni mi scriveva firmando naturalmente con cognome e nome e tutti i grigori sotto, io sapevo che egli, anche a nome della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, da anni si batteva con risultati incerti per la reversibilità della pensione, nel caso, che era proprio il suo, in cui il sotto ufficiale si fosse sposato dopo il collocamento in congedo. Comunque, data anche l'esiguità di questa seconda pensione, che era grande solo se paragonata alla prima, mi pareva che neppure per la vedova in fondo sarebbe cambiato granché. Eppure, da questo punto di vista, la morte di mio padre, per ora soltanto prevedibile, si presentava come un avvenimento affatto naturale. Ma con tutto questo non era certo un bel viaggio, quello che andavo facendo, anche perché si era d'inverno, febbraio precisamente, e il mio paese, che sta proprio nella campagna bassa intorno alla laguna di Venezia, l'inverno è pieno di freddo, di nebbia e di influssi depressivi, e come se ciò non bastasse. Non è che vi andavo da solo. E infatti, all'ultimo momento, mi si era appiccicata appresso per aiutarmi in una circostanza tanto dolorosa, madonna con la quale da un po' di tempo vivevo amore Uxorio, che era una vedova di origine francese, ancora abbastanza giovane e gradevole, direi, ma con una voglia matta di meritarsi una seconda volta. E io non le volevo mica male. Anzi, in un certo senso le ero grato, perché mi aveva spinto a superare parecchi pregiudizi di carattere sessuale, cioè in sostanza. Vedova com'era, e per di più francese, mi aveva insegnato a fare l'amore un po' come si deve. Ma per quel che si riferisce al matrimonio, io le dicevo sempre che noi due eravamo più che marito e moglie, in quanto che stavamo insieme per consenso e non per obbligo e contratto. E lei aveva aspettato proprio questa circostanza del malanno paterno per esercitare i suoi diritti e i doveri di più che moglie. A qualcosa, giustamente prevedevo, lei avrebbe procurato un sacco di fastidi di diversa specie. Quale prima mossa, si capisce, presi alloggio nel miglior albergo del capoluogo, e lì la lasciai e andai all'ospedale. E la camera a pagamento dove era ricoverato mio padre. E vedi che ormai la morte gli si era attaccata addosso. Subito mi stupì il suo pallore. E poi che avesse un pigiama azzurro a righe, mentre io l'avevo sempre visto andare a letto col camicione da notte. O meglio ancora con la maglia di cotone, se si era d'estate, e di lana se si era d'inverno. E poi mi stupì, anche, il suo modo di guardarmi. Senza grande interesse, a dire il vero. Però scommetto che il suo pensiero era perché mai sarebbe qui costui se io non mi trovassi più di là che di qua. Certo, questa cosa poteva pensarla anche in una diversa forma, ma la sostanza doveva essere uguale. Io suppongo che già sapeva che sarebbe morto, o forse non sapeva ancora, però aveva nello sguardo lo stesso sgomento, appena appena recalcitrante, che hanno buoie e vacche quando li conducono al macello comunale. E non si sa se buoie e vacche capiscono che li conducono al macello, ma certo, a stare allo sguardo, capiscono che non vanno di sicuro incontro a qualcosa di benefico. E perciò, in complesso, questo incontro col padre Moribondo era un avvenimento poco riuscito, per non dire penoso. Sì che lui si mise a tamburellare con le dita sul risvolto del lenzuolo, ormai guardando da un'altra parte. E mia madre disse che qui, all'ospedale, quel termosifone stava molto meglio che non a casa, e quindi pazienza per la spesa, e del resto bisognava pure che gli facessero i raggi e gli esami necessari. E inoltre ciò che contava era che i dolori di pancia gli erano quasi del tutto passati. Solo lui si sentiva la bocca cattiva, ma questo gli capitava spesso nella vita, per un fatto di indigestione quasi sempre, tanto che lei gli avrebbe dato, come al solito, un po' di sale inglese. Ma qui all'ospedale c'erano medici e professori, e toccava a costoro decidere. E mio padre tutte queste belle cose che le lasciava dire tamburellando con le dita sul lenzuolo, e facendo ogni tanto con la bocca il movimento di uno che dice ma. Ossia non faceva neanche un piccolo sforzo per crederle, solo si abbandonava a lei, alle mie sorelle, ed altre parenti che si trovavano nella camera. E in questo suo abbandonarsi alle donne ci poteva essere un segno della sua consapevolezza di morire, perché quando gli uomini muoiono cristianamente, così come quando nascono, sempre donne hanno intorno, e d'altra parte le donne hanno maggiore familiarità degli uomini con le malattie e i cattivi odori. Basti pensare a come partoriscono, e pare che abbiano una particolare resistenza e perfino attaccamento a quel genere di cose poco gradevoli. E infatti succedevano spesso litigi tra le mie cinque sorelle, e anche con mia madre, ciascuna contendendo alle altre, il privilegio di stare più vicino al moribondo. Ma per conto mio, quel puzzore che lui emanava dalla bocca, o non so dove, era insopportabile, sì che stavo per lo più in corridoio, vergognandomi un poco di provare riprezzo per mio padre, ma soprattutto pensando alla vedova francese, ai pasticci che probabilmente mi stava combinando, tant'è vero che poco dopo, con la scusa che ero stanco del viaggio e delle emozioni, volevo andarmene in albergo. Ma mia madre mi disse ad aspettare, perché tra poco sarebbe passato il primario, e dare bene che gli parlassi io, che ero il primo genito oltre che unico maschio, e per di più avevo un'istruzione, a meglio degli altri avrei potuto capire ciò che gli avrebbe detto a proposito di mio padre.